Cari amici sportivi di Teletermini, questa sera siamo venuti a trovare qui all'impianto di Padre Lupo, cosiddetto Domenico Geraci, che è l'allenatore dello Sporting Termini, una squadra che quest'anno sta sbaragliando perché 32 punti in classifica, 10 partite vinte, 2 sole pareggiate e nessuna partita persa. Il maggior numero di reti segnate è 33 e il minore numero di reti subite è solo 10, una media inglese che dice più 10, insomma dove vogliamo arrivare? Grazie per questa collaborazione vostra, ci rendete partecipi e soprattutto ci pubblicizzate al meglio in questa città che ha bisogno di tanta valorizzazione per lo sport. Per quanto riguarda la nostra società o la nostra squadra diciamo che stiamo lavorando bene, questo è frutto di un po' di anni di lavoro e duro lavoro devo dire dove nonostante mille sacrifici tra campi e quant'altro dico stiamo e siamo riusciti a creare nel migliore dei modi diciamo una classifica che in questo momento dà valore alla nostra squadra. Dico è bello perché una piccola realtà come la nostra, una società tra virgolette povera magari ai fini economici ma ricca di valori di vita, diciamo che dare un bel segnale fa tanto. In questo campionato diciamo che come preannunciato, come hai detto poco fa, siamo la migliore squadra però le somme si tirano alla fine. Dico in questo momento ci godiamo il momento, siamo nel momento giusto per continuare a dare prosecuzione a quello che abbiamo fatto e sicuramente siamo consapevoli che il bello dico deve ancora arrivare perché non c'è nulla di concreto. Però possiamo dire che siamo a un buon punto dopo la prima giornata di ritorno, vinta domenica fuori casa, diciamo che è stata una delle trasferte più insidiose che avevo già preannunciato ai ragazzi e ho detto che per me quella poteva essere una delle più complicate. Dico però siamo stati bravi a tirarla fuori, a portarla a buon fine e in questo momento devo dire che sono orgoglioso del mio gruppo e di questi fantastici ragazzi. Ne abbiamo parlato anche in diretta qualche tempo fa in trasmissione, questa squadra gioca perennemente in trasferta non solo perché è capitato in un girone praticamente del messinese quindi davvero siete costantemente a 100 km di distanza da Termini ma anche le partite in casa siete costretti a giocarle a Sciara fino alla scorsa settimana. Da domenica finalmente vi avvicinate, non è stato possibile Termini malese però quantomeno Trabbia e i tifosi potranno godere degli spalti un po' più tiepidi diciamo. Ma sì, guarda sotto questo punto di vista non ci faccio più caso riguardo alle strutture, sicuramente mi duele il cuore a pensare che una squadra in queste condizioni, prima in classifica, che possa da un lato valorizzare anche questa città che deve andare a trovare dei campi nei paesi limitrofi ai cui ringrazio principalmente il comune e il sindaco di Sciara per averci accolto. Da questo momento in poi ringrazio pubblicamente il sindaco di Trabbia per aver accettato la nostra richiesta e inoltre non mi rimane che ringraziare l'assessore allo sport di Termini malese, Salvatore Messineo che devo dire che è stato veramente una persona abbastanza disponibile fino a ieri, ci siamo incontrati però purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione per giocare le gare casalinghi a Termini dico per vari vicissitudini che non sono qui ad elencare, dico perché non sono qui per fare polemica anzi sono qui per valorizzare questa squadra, per valorizzare questo gruppo ma soprattutto perché voglio che questa città porti nuovamente almeno il calcio intendo poi gli altri sport assolutamente sono prioritari come il calcio però siccome la mia disciplina è questa in questo momento spero che possiamo arrivare più in alto possibile per far sì che questi giovani, dico termitani, perché la maggior parte della nostra squadra come ben sapete è una squadra ricca di giovani, gente che esce dalla nostra scuola calcio spero che vada a calcare almeno un campionato leggermente più competitivo rispetto alla seconda categoria chiaramente ormai speriamo, siamo prossimi a un campionato di prima categoria che l'anno scorso vi è sfuggito nella finale playoff ma che quest'anno con le unghie e con i denti dobbiamo, perché ci sentiamo coinvolti raggiungere prima della fine del campionato assolutamente che cosa possiamo concludere se non con un auspicio lo sport in termini in questi anni non ha investito soltanto in giocatori locali o in giocatori comunque per giocare un campionato di seconda categoria o di prima categoria avete investito sulle strutture sportive, l'oratorio San Filippo Neri è uno di questi poi avete altre strutture anche all'agglomerato industriale abbiamo un'altra struttura all'agglomerato industriale che per noi è stata la prima struttura nostra diciamo che devo ringraziare il presidente di questa società, ovvero mio papà che da solo, senza mai un aiuto, è stato in grado di realizzare e portare avanti questa fantastica società che è partita nel 2006 con sei bambini siamo arrivati circa a 140-150 bambini e sono contento perché questo è frutto di un lavoro e di un sacrificio pauroso fino ad oggi, dico da parte sua ma soprattutto di gente che ci ha circondato finora, di gente che ci ha dato una grossa mano e continuo a darcela e dico abbiamo investito sulle strutture perché in questo momento secondo me la cosa principale a cui dobbiamo puntare tanto è la struttura la struttura perché a questi giovani dobbiamo dare noi la possibilità di divertirsi la possibilità di usufruire di strutture agibili, di strutture che possono rendere la giornata diversa ad un piccolo calciatore o almeno un aspirante calciatore quindi diciamo che la cosa principale era quella di improntare sulla struttura questo abbiamo improntato anche sul campo San Filippo Neri la struttura perché diciamo che era un piccolo sogno nel cassetto per meglio dire era una struttura a vederla abbandonata non era bello perché ha un passato, ha un suo passato ed è giusto che sia valorizzata nel migliore dei modi io spero che stiamo facendo qualcosa di positivo, qualcosa di bello nonostante i mille sacrifici perché capite bene che gestire una struttura è molto ma molto complicato ci auguriamo chiaramente, l'augurio che vi possiamo fare è quello che riuscirete nel prossimo futuro chiaramente lì l'investimento è naturalmente eccezionalmente notevole fare anche un campo a 11, perché no? Chissà, lo lasciamo assolutamente, dico potrebbe essere un grandissimo obiettivo, un grandissimo traguardo dico che in questo momento non è semplice da trovare ma io la cosa che mi auguro principalmente è che la struttura magari della nostra città possa diventare uno dei maggiori gioiellini del circondario Allora noi abbiamo parlato e chiudiamo questa intervista noi abbiamo parlato dei giovani e quindi della primavera che dà grandi risultati il campionato giovanissimi, davvero i ragazzi sono inarrestabili va benissimo la prima squadra ma avete dato anche, partorito, dato comunque i natali al futsal, al calcetto a 5 con una squadra di grandi calciatori che sono tornati a calcare questo campo e chi stanno dando i risultati finalmente sperati Assolutamente, dico il calciacinque è stato un piccolo investimento fatto da me perché diciamo che la gente che fa parte di questa squadra mi ha coinvolto in questa situazione mi hanno spronato e io non ho potuto dire di no anzi ho accettato perché, ripeto nuovamente valorizzare questa struttura, valorizzare questo sport per me è la cosa principale devo ringraziare tutti i dirigenti del calciacinque, tutti i giocatori perché fanno enormi sacrifici anche loro arrivano al punto anche di autotassarsi per far sì che possano partecipare a questo campionato anche perché le spese sono notevoli trasferte, materiale, iscrizione ai campionati, tesseramenti c'è la qualsiasi per questo campionato come per tutti gli altri però devo dire che è una bella realtà ci stiamo riprendendo, abbiamo fatto un inizio di campionato un po' turbolento ora diciamo che da un paio di partite a questa parte stiamo dando un po' di prosecuzione al lavoro che è stato svolto dal mister Barbarino spero che questa squadra raggiunga la migliore posizione del campionato a fine anno poi tireremo le somme e faremo un totale, una grande festa assolutamente, grazie a Domenico Geraci, in bocca al lupo e naturalmente vi seguiremo domenica in diretta da Trabia io ringrazio voi assolutamente perché poco fa hai detto una bellissima affermazione quando hai detto noi siamo per me è una grande soddisfazione sono orgoglioso di questa città e soprattutto orgoglioso di voi per quello che riuscite a fare e quello che riuscite a dare alla nostra società quindi non posso che augurarvi un grande in bocca al lupo anche a voi e un buon proseguo di campionato a noi